gli sorgenti termali oh devo far prima questo oh mannaggia sono in crisi io pensavo che dovevo andare direttamente laggiù e invece no ecco qua devo fare anche questo di nuovo bene andiamo al caldo ci facciamo un bel bagno dopo una bella discesa nevosa ci vuole un bagno caldo a allora di tutto è bello buongiorno volevo farmi un bagno ehi sono un cliente non si trattano così clienti brutti maleducati di che non siete altro è che volevo farmi solo un bagno no si picchiano questi guarda posso farmi una doccia prima di va mi faccio una bella ehi non voglio l'acqua gelata voglio l'acqua calda ha già abbastanza freddo fuori ma pensa un po quello ad essere i problemi che è maleducato oh acqua calda mi sento già meglio cos'è quello tiragnacoltore visto che non possono nuotare possono saltellare che è il tipo che volava ha già fatto fuori meglio che è il tipo qua che è colicino va bene acqua calda che bellezza peccato che non posso fermarmi devo andare avanti prendo quel colicino lì che volevi io stavo solo qui a guardare questo devo scioglierlo la k dammi la k poco alla lana 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 linuna lana 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 ... hey granchio! fate anche tu un bagno che bello a tutti a farsi un bel bagno grazie proprio quello che mi ciao eccola perfetto uno di ghiaccio lo vedo tenere ma c'è mai questa e poi si scivola piccole è tornato di nuovo la discesa c'è anche da poco e come l'ho preso malissimo a 39 rune raccogli il monolite con il cilone e attivano premendo x per proiettare la bolla eterna la bolla eterna in che senso questa cosa ma c'è il fuoco non posso saltare e poi venire tu da me è fatto così poco intelligente sì io a me sono poco intelligente io scusa come faccio se faccio x si toglie aspetta prendila e poggiela ok 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 una vita questa bolla a pensavo che forse la grazie c'è qualcuno ma non è quello che ecco la c'è gambia all'aria fatto è ghiaccio buongiorno c'è qualcuno qui c'è c'è ma c'è un checkpoint che andrebbe avanti ma io ho come l'impressione tipo un bonus questo fatti un bagno perché sbaglio sempre tasti come hai fatto a colpirlo? l'animazione è un po' sbagliata però va bene uccellacci ti sposti Kao ma ti lasci colpire no dimmi che non ho ricominciato tutto da capo no meno male no grazie adesso me l'ha dato il pollicino che bello ogni tanto è magnanimum questo gioco no grazie proprio quello che mi serviva ok ok fatto diamante preso ma scusa dimmelo prima no ok che già la porta la poteva farmi intuire però però ecco ecco bene niente lettere niente lettere però non spegnerlo non spegnerlo ho trovato la come? non devi spegnerlo lascio qua ok ah vieni con me prendi e andiamo quella è normale ecco me ok l'acqua questa ok sarei tutta eccolo perfettamente perfetto andiamo il mio diamantino esatto invece no il contrario ok mi hai risparmiato la fatica di dover arrivare figli a fatti pesce brutto pesce che non sai altro ma no di nuovo non devo fare in giro gli altri se poi sono io la prima che fa più disastri più disastri che ci siano collega i neuroni show quando sono in alto vorrei saltare in quel momento no quando sono giù oh e ora buonanotte saltate fuori adesso se ci riuscite prendi il testallo che lo porti di qua e mettilo qui ad aspettarti ho preso il ghiaccio benissimo dobbiamo vendere dove andarci ok ho preso anche il fuoco bene perfetto perfetto ora ho il ghiaccio eccolo qua benissimo adesso finisce qua colpetto no e voilà ti è pupazzo ti è pupacciati ci sono le monete sotto sono baggate salve cosa è questo bene a pezzi siamo fuoco grazie e forzo foto delle arti molettine ma divertente pozzo numero 11 facciamo ma si tanto vale quest'oggi facciamo più cose no di nuovo vai cos'è un'arena che è vedete una volta qua va che è non è sto vengalo ora si perfetto 8 su 15 10 su 15 ciao ho vinto il fuoco cosa sta facendo c'è c'è un'altra cosa di fuoco no ciao ti è ti avvicini un pochino ecco grazie un'altra roba di fuoco no ci sta ci sta oh grazie grazie mille una volta morire non è stato completamente inutile ok e accenditi eccoci qua mi manca solo la oh manca solo la lettera oh oh vedete ho perduto di nuovo come prima eeeh da che parte di qua qui perché la o era dall'altra parte non posso fermarmi per vedere vedere dove non so neanche parlare la o la o non ho preso la o oh ti prego perché c'è qui oh oh non c'è niente qui perché devo uscirci qui c'è la runa ok non è finito sia qui dimmi che qui dimmi che la recupero e che però c'è qualcosa di sotto c'è 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 qualcosa qui sotto ah no era per forse se nel caso mancavo il salto pieno di spunzoni posso colpirli fanno malissimo questo cos'è dimmi 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 no devo scendere per forza ma dai ok qui c'è poco vediamo se manca dietro ah uh ah sta culture non si è passati di ok mi sa che mi tocca mi tocca scendere gorilla gorilla sono in gorilla qui bovino salterino ma cosa cosa mi sta dicendo oh mi piace questa cosa civolo wiii ah chi è chi è chi è fatto benissimo chiede a dire in tua scolpa ora se non hai obiezione vorrei concludere questa fase del processo di rinnovamento come dire ho un po' di fretta di incontrare l'anziana la cosa cosa come cosa chi è la madre spirituale pardon un attimo mi dice qualcosa l'antica l'anziana la nostra maestra oh ora mi ricordo puoi trovarla al tempio degli spiriti ma solo se completi il processo un tempo usava il tempio per meditare quando ah bei tempi quando era capo della scuola di arti marziali e non di qualsiasi cosa sia questa ecco prendi ti aiuterà a completare il rinnovamento grazie e ehi riguardati forse un giorno tutto tornerà come prima ah è la fine ho capito e alla fine non ho preso l'accidenti e neanche l'ha aperto a meno ma come non l'ho neanche vista va bene va bene va bene direi che per questo video su cauda e kangaroo è tutto per oggi lascio a voi la parola sotto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate e spero che mi lascerete almeno un piccolo mi piace per farmi capire che l'esperienza vi sia piaciuta e non dimenticate di iscrivervi al canale e magari condividere con i vostri amici per aiutarmi a crescere e noi ci rivediamo alla prossima sempre con Vimi ciao 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 Ciao!